E' una vicenda che ha dell'incredibile quella che mi appresta a raccontarvi in questo video di oggi. Ebbene, si chiama Jared Thomas Harris Markham, è un ragazzo il quale è accusato di ben 141 abusi su minorenni, con i quali andava a lavorare in qualità di babysitter. Il ragazzo di Pert, 24 anni, in Australia, avrebbe compiuto più di 200 reati pensati nei confronti di bambini tra il luglio del 2020 e l'agosto dell'anno 2021. Da una ricostruzione compiuta da parte degli inquirenti, sembra che il ragazzo poteva di una reputazione davvero eccellente e per questo motivo proprio tantissimi genitori australiani decidevano di comune accordo di lasciare i loro piccoli all'uomo o meglio ragazzo in questione. Salvo scoprire poi che però questo ragazzo era un personaggio che si è macchiato di ben 200 stupri a danno di bambini innocenti, vittime della sua perversione sessuale barra intima. Adesso il ragazzo si apriranno le porte per lui per un processo penale che ci sarà in Australia e vediamo quello che succederà. Da come si legge sul web però non dovrebbe farla franca. Beh, da Leandro, narratore italiano di YouTube tra di tutto, questo sarebbe quanto, iscrivetevi, commentate e ciao al prossimo video.